Lo sapevate che le nostre auto in garanzia non necessariamente devono essere revisionate presso le concessionarie ma anche da officine qualificate e autorizzate? Chiediamo all'esperto di oggi che è Maurizio Massullo, è vero che l'assistenza in garanzia non necessariamente viene effettuata nelle concessionarie? No, effettivamente no. In effetti io rappresento qui su Foggia una delle officine autorizzate Ford. Ecco, da quanto tempo? A Foggia da circa tre anni, però ho un'esperienza di oltre 25 anni nel settore. Solo Ford fai assistenza? No, noi effettivamente manchiamo riparazione pur di marchi. Cosa offrite ai vostri clienti Ford? A parte un'esperienza oltre decennale, abbiamo assistenza specializzata e qualificata Ford, interventi sulla meccanica leggera ed elettronica. Ci sono altri servizi che fornite ai vostri clienti? Sì, ci sono altri servizi. Ad esempio, chi effettua la manutenzione presso di noi, offriamo il Ford Assistance, cioè tagliando, offriamo un'assistenza di traeno e caratterezzo gratuito per un anno. Solo autoveicoli Ford assistete? No, siamo anche a plurimarche, quindi effettivamente manutenzione e riparazione su altre marche. Da chi vi rifornite per i vostri ricambi? Da Mario Palazzo. A tal proposito c'è qui raggiunti il signor Vincenzo Biccari, responsabile della Mario Palazzo. Vincenzo, abbiamo qualche offerta per questo periodo? Ok, salve. Per il momento offerte nuove non ce ne sono, però continuano. E fino alla fine dell'anno, l'offerta della batteria Varta, e dico un euro ad ampere, quindi una batteria da 44-44 ampere, e l'offerta delle spazzole Bosch, sul pezzo, spazzo del tergipedro. Sul prezzo di destino il meno 40%. Volevo inoltre ricordare che la Mario Palazzo Ricambi si trova in piazza Pavoncelli, 26, quella del centro di igiene, e sta lì da 50 anni. Bene, Maurizio, anche tu hai qualche offerta per questo periodo? Certo, Ford dispone fino al 31 di dicembre, tagliando a 119 euro per le autovetture Ford, e c'è anche una super offerta sulla cinghia di distribuzione a 280 euro. Dove ti troviamo, Maurizio? Un corso del mezzogiorno prima d'Aversa, Foggia. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo argomento. Grazie.